Muove i primi passi organizzativi di questa undicesima legislatura la quarta commissione. Un avvio positivo per programmare al meglio le politiche sanitarie per i cittadini piemontesi. Il dibattito è stato molto acceso ma molto corretto e ho proposto la possibilità di lavorare anche con le istituzioni di sottocommissione qualora si deciderà assieme di approfondire delle tematiche e anche in linea con quanto dichiarato e quanto attuato già dalla Giunta Cirio di portare la commissione itinerante sul territorio laddove vi siano delle tematiche o dei luoghi o delle situazioni in cui è necessaria la presenza sul territorio e sulla provincia. Intanto è una buona notizia che finalmente la commissione si sia riunita perché abbiamo assistito nelle scorse settimane a un dibattito sui giornali ma è il consiglio regionale e la commissione è il luogo deputato alla discussione dei problemi ma soprattutto della programmazione delle politiche sanitarie per i cittadini piemontesi. Quindi oggi finalmente la commissione si è riunita, l'abbiamo chiesto tante volte nelle scorse settimane e cominciata con il piede giusto con una disponibilità da parte dell'assessore a collaborare con i vari gruppi. Ci aspettiamo adesso la trasmissione dei dati che abbiamo richiesto e che il confronto prosegua nelle prossime riunioni probabilmente già a partire dalla settimana prossima. Presente alla prima riunione anche l'assessore alla sanità Luigi Cardi che ha indicato nella sua relazione gli obiettivi che intende raggiungere primo fra tutti quello di adottare un nuovo piano socio-sanitario regionale. Sono tanti i punti, noi cominciamo dal dire mettiamo i conti in ordine, facciamo efficienza in maniera da avere risorse più fresche da spendere per migliorare l'offerta sanitaria del nostro Piemonte. Quindi da una parte diciamo il gestionare e dall'altra significativi interventi nell'edilizia sanitaria con la realizzazione di nuovi ospedali, penso per esempio a Novara, penso a tutta una serie di criticità che abbiamo su ospedali vecchi e quindi ci impegneremo per dare un impulso all'edilizia sanitaria il che significa anche ricercare una qualità maggiore della nostra offerta.